Mister del Brugnato Lunghi, una vittoria nella finale play-off, adesso si andrà nella gironcina 5. Quanta soddisfazione c'è anche il coronamento di un percorso, anche per te che dura da tre anni, è una grande soddisfazione? Sì, molta soddisfazione. In tre anni abbiamo fatto il primo anno una finale play-off che abbiamo perso. Il secondo anno siamo saliti di categoria, cioè l'anno scorso. Quest'anno eravamo 10 promossi, ma siamo partiti per salvarsi. E poi tutto strada facendo, i risultati arrivano, il gruppo continua a esserci, un gruppo affiatato. Siamo arrivati fino a oggi vivendo un sogno e oggi ci ha coronato veramente un sogno inaspettato. Sono orgoglioso veramente di allenare questi ragazzi, mi hanno seguito tutto l'anno e è stata una cosa bellissima, che nessuno si aspettava. Ecco, facciamo un esempio, perché adesso nel giorno della 5 c'è il Savona, che ha fatto anche la Serie C. Il Brugnato andrà a misurarsi contro squadre che rappresentano piazze importanti. Cosa può fare in questo girone finale che, lo ricordiamo, se terminasse con una seconda o una prima posizione, significherebbe promozione? Noi viviamo questo girone finale con l'entusiasmo e la voglia di divertirsi che abbiamo avuto fino adesso. Forse è il nostro segreto, non ci poniamo dei limiti, ci vogliamo divertire tanto. E ci riesce bene. Andiamo a fare queste partite, orgogliosi di farle, consapevoli che incontreremo realtà superiori a noi, ma noi ce la metteremo tutta come oggi. Grazie, mister Comprezzo. Prego, grazie.